Ciao limoncini, oggi ho un video speciale perché giochiamo un gioco molto 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 speciale Bene bene bene, spero che moriremo, no scherzo scherzo Allora ho avuto tante invitazioni Partiamo da questa, dove c'è il mio fidato amico di 6-10 anni che ho conosciuto su SharkBite Che poi vi dovrò fare anche vedere, tranquilli lo porterò in, non in diretta perché non posso portare cazzo Però lo porterò sul canale, già sono overpower all'inizio Non perché mi danno l'overpowerità e che io scioppo perché io non c'ho neanche un Roblox Un Robloxed Però su Squid Game come potete notare ho 1380 euro Ecco, sono spierdi Cosa sto facendo, via Scemità Aspani Allora 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 Cominciamo dall'abbassare i consumi perché mo' Grazie Vi darò un pochino Per nuovare perché non l'abbiamo Allora 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 se ci sei, ma l'hai detto benedetto spero di essere una guardia vabbè ci divertiremo comunque, morirò male a un gioco spero di vincere perché sennò sono una brutta figura veramente brutta in uno squid game inventato, credo spero di vincere vincere io sono bravo al giovele di caramello io sono bravo al giovele di caramello io sono bravo al giovele di caramello allora la guerra anche però va bene allora abbiamo un problema buku ma ci piace che partiamo quanti morti sono rimasti buonissimi mi dissocio arrivederci a mai più non datemi l'ombrello vi prego vi prego io so questo cosa sono bravo però l'ombrello è difficile che so pure bravo che so pure bravo che l'ho fatto in vita mia però è difficile è più facile è più facile è più facile vedere l'ombrello e volevo e tu anche volevi fregarmi che sei morto volevi 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 spero che rimarrò vivo così avrò vinto credo allora io nella lista scappo scappo ok vado nei posti più alti senza formare alleaggi io ho tutti qualche amico sono queste che cosa è l'ora calma calma allora devo pensare un piano allora 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 tu sei bravo tu sei sempre che bravo è tutto tranne quando eri una volta una guardia che sei morto per colpa di un giocatore che avevano giocato una mano non è fatto allora buona botte sogni d'oro mamma mia anzi sogni di bronzo perché tu sei brutto ecco guardiamo una mazzola baseball ma ma sono bravo baseball allora dobbiamo rimanere col guardare come è un mazzo eh allora ero piuttosto bene adesso mi faccio ok brutti bruttissimi mi controllo sempre le spalle mi faccio fare un muro più grande come una casa io me ne scappo poi guardano le spalle ah aiuto aiuto vogliono rubarmi limoni non videro mai il mio oreggio il mio oreggio è un muro rusti hacker no 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 ok no 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 no! AIUTO! 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 Io scappo in mezzo ai livelli- AIUUAAHHHH! No! Non mi fa- eh! L'ho shrivata! Gadello, morite. Morite! Morite. Morite, 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 morite... Morite, 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 morite... Ti prego, dimmi che qualcuno è morto. Eh. bene no adesso c'è la mia nemici ecco questa è la mia morte sicura perché io sono penale in questo gioco per rinvincere forza forza youtubersca aiutami te se devo allenare scaldami vedete che io sono sotto malattia di sotto una malattia che non voglio dire intestinale però comunque è solo intestinale non so altro comunque andiamo avanti per favore per favore fatemi vincere per una volta per una volta una sola escape 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 vediamo se qualcun altro è stato più bravo di me e sta dicendo vorrei essere sta qua guarda eh però è altissimo vuoi essere come gli altri ma guardati qua c'è devo fare un sacco di pratica scusi devo farlo un sacco ma guarda che trassone ma un trassone sto qua è un trassone è un trassone gruzio 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 sono tutti dei trassoni adesso io sono rosso io mi sono rosso mi sono rosso le scatole devo sempre morire mamma mia sto pepino allora adesso voglio fare un circo circo di morte per favore datemi una guardia per favore perché faccio anche dire per diventare delle guardie tre volte sono in gioco e voglio diventare una guardia per favore volevo dire un po' voglio dire anche meglio divere per favore per favore per favore per favore sono capitol! ok, vanta! 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 andiamo! oh yeah! vedo pugni! ragazzi vedo pugni! Pugni! BAM! NAAAAA! C'è la grossa, ma volta che mi playa oh! a calmini! a calmini! a calmini! c'è di un pugni! a calmini! a calmini! a calmini! a calmini! ecco! c'è il�� gormav Additionally, invece vanta, le dalle diplo usb if Z o usb豀 a cat e non 주는 a calmini! Fatti una giusta Non stai a guardarmi Sono super bello Sono anche arrampicata Gli alberi gigambole giganti E gli altri Sono bravissimo Potremmo griffare Potremmo solo griffare le guardie E niente Siamo tutti i player L'abbiamo aggiunto alla fine Sono deceduti un bel po' Non mi date un ombrello Solo perché sono il primo Non mi date un ombrello Per favore Secondo me è un ombrello Non dovremmo scegliere noi Io sceglierei sempre il triangolo Ma sono Una fortuna Una fortuna Morite tutti Morite tutti Morite tutti Mi metto sopra quello del giro Ma morite Ecco sono morti Oh Oh questo ammazzo Perché sta ammazzo? Oh Seguro Bravo Ok io devo andare Devonto in bagno La mia malattia In questa finale Mi ha come diciamo Fatto voglia di dormire e ora e ora aiuto aiuto ok 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 devo andare nei posti più alti volete dai go no c'è comunque go bello tranquillo sopra la lampada 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 bene ragazzi potrei vincere potrei vincere e andare al prossimo gioco e vincere un sacco di modi eh però eh però eh però scappa 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 ma dovevo saltare nooo eh sono morto fate stifo ho fatto il mio record e sono felice però anche triste grazie per avermi fatto soffrire un'altra volta datemi la guardia se no o se no non mi fate essere una guardia fatemi vincere quel gioco poi gli altri ci penso io se no mi attacco la mia terre mi viene anche mi viene anche dove l'attacco che 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 ci sono ci sono io ci sono io nooo parlavo con i miei iscritti e per favore non mi far fare non mi far fare brutta figura ti prego guarda 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 nooo comunque sarà bello sarà bello sarà bello sarà bello sarà bello l'importante che nessuno mi spinga perchè io lo osservo e li spingo io è e e limoncini la l'assai l'amook la l'amook 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 Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!